Benvenuti al nostro TG7. In apertura del nostro telegiornale sportivo vogliamo fare i complimenti davvero più sinceri al professor Franco Ionna, nominato Cavaliere della Repubblica, originario di Vasto Girardi, dove conserva naturalmente rigorosamente anche una casa. Il professor Ionna, attualmente punto di riferimento dell'ospedale Pascale di Napoli, ha dedicato la sua vita alla medicina mettendo a disposizione la sua grande esperienza e le sue conoscenze. E' stato nominato anche referente e responsabile degli otorini d'Italia a conferma della sua grande qualità e professionalità. Nostro grande amico Franco Ionna è stato premiato, come stiamo vedendo anche dalle immagini, anche nel nostro gran galà di Telemolise nel cuore del 2021. E naturalmente siamo stati onorati di poter consegnare a lui la nostra statuetta. Franco Ionna è sicuramente un'eccellenza della quale l'intero Molise va fiero. Calcio di Lega Pro, momento positivo per il Campobasso che con due affermazioni consecutive ha ripreso quota in classifica dimostrando di essere squadra quadrata e capace di soffrire. Dopo due giorni di riposo il Campobasso riprende ad allenarsi oggi nel mirino la ternana di Ignazio Abate, proveniente da quattro vettorie consecutive, fra le principali candidate al ritorno in Serie B. L'organico non mente. I vari Curcio, Donnarumma e Cianci sono un attacco di categoria superiore. A questi aggiungiamo la vena realizzativa attuale del gioglio offensivo Emanuele Cicerelli, finora a segno 5 volte, e capo cannoniere del girone B. Dal canto suo la squadra di Braia non andrà a recitare il ruolo di vittima sacrificale al Liberati, tutt'altro i rosso-blu sono in deciso miglioramento anche sotto il profilo mentale. Tutti sono pronti a contribuire con profitto alla causa, ne sono una dimostrazione le cinque rotazioni di Ponte d'Era. Chi è subentrato lo ha fatto con il giusto approccio e la giusta mentalità. Sblocco anche dal reparto offensivo che aveva registrato inizialmente qualche carenza di troppo. Primo gol per Forte che è stato anche l'autore di un contropiede molto ben orchestrato. E di Stefano che ha realizzato al termine di un'azione in cui più di un giocatore era salito alla ricerca del gol. Terzo gol stagionale per lui. Prova di maturità dunque da parte del Campobasso che ha saputo anche soffrire ad inizio secondo tempo e riorganizzarsi nella parte centrale per poi sferrare il colpo di Grazia al Ponte d'Era. La settima di andata ha fatto registrare la prima vittoria esterna dei rosso-blu, il primo pareggio del Pesaro, la prima sconfitta del Gubbio ed il primo successo del Legnago. Ancora imbattuto il Pescara di Baldini e la Torres di Greco. Ternana invece sconfitta al primo turno di campionato proprio dal Pescara. Questo sta dicendo per ora il girone B della Serie C con la crisi profonda dell'Ascoli e del Perugia. Gli Umbri hanno vinto soltanto una partita e l'ascesa incredibile del Rimini capace di 10 punti nelle ultime 4 e di due vittorie consecutive esterne proprio a Perugia e ad Ascoli. La vicenda giudiziaria dell'omicidio del calciatore del Cosenza Dennis Bergamini si intreccia in qualche maniera anche con il calcio del passato. Proprio ieri c'è stata la condanna da parte del Tribunale di Cosenza dell'ex fidanzata di Bergamini a 16 anni di carcere per concorso in omicidio volontario. Per anni la vicenda era stata archiviata come suicidio del ragazzo. La morte avvenne il 18 novembre 1989 a Roseto, capo spulico, riavvolgendo il nastro. Qui un'intervista di Bergamini con la maglia del Cosenza al termine della gara interna contro il Campobasso del 24 aprile 1988, finita 2-0 per i calabresi con doppietta di Michele Padovano. Ma niente, direi che è stata un'ottima partita. Abbiamo meritato questa vittoria, direi che è il risultato più che giusto. Che pubblico, Bergamini! È uno spettacolo, bellissimo. Vai, complimenti Bergamini! Nel girone B, la settima giornata è stata caratterizzata dal segno 2. Sei sono state le vittorie in trasferta. Due successi delle squadre che hanno giocato in casa. Altrettanti i pareggi. Ripetiamo tutti i gol. La Torres vince ancora e conquista tre punti preziosi per la classifica. Partita sbloccata dal centro avanti Fisnaller che segna ancora e porta la Torres sul più 1. Nella ripresa, Corsinelli pareggia un avvio di ripresa portando il risultato in parità. Ma Mercadante porta nuovamente in vantaggio i Sardi. Finisce 2-1 Torres che insieme al Pescara rimane la squadra da battere nel girone B. Quarta vittoria consecutiva e primato in classifica. Per la Ternana di Abate che conquista tre punti preziosi sul campo ostico dell'Arezzo. Partita sbloccata in avvio da Cianci che segna alla prima occasione della partita. Cicerelli al quarto d'ora di gioco segna così il gol del raddoppio. Nel finale di primo tempo Tavernelli riapre i conti segnando il 2-1. Ma non basta. Vince la Ternana che si porta a quota 16 punti in classifica. Primo successo stagionale per il Legnago Salus che conquista i primi tre punti stagionali. Grazie a una bella prestazione di squadra. Partita sbloccata da Sviderkoski che segna nella prima frazione così. Nella ripresa Franzolini raddoppia. Per i padroni di casa che nel finale soffrono e incassano il gol del 2-1 d'Alenco. Che lo fa così. Finisce 2-1 per il Legnago Salus. Il Rimini conquista tre punti sul campo dell'Ascoli. Gol arrivato nel secondo tempo a segno Parigi con il suo primo gol stagionale. Un gol pesantissimo. Finisce 1-0. La Pianese cade in casa contro il Sestri Levante a segno Parravicini che segna nella ripresa. Secondo gol nelle ultime tre partite per il centroavanti del Sestri. Finisce anche qui 1-0. Il Campobasso vince 2-1 contro il Ponte Dere. Conquista la terza vittoria in campionato. La seconda consecutiva forte sposta gli equilibri alla mezz'ora con questa rete. Vantaggio che però dura una manciata di secondi perché Tretato pareggia così. Nella ripresa il gol vittoria segnato da Di Stefano che a 5 dal recupero porta avanti i suoi. Finisce 2-1 per il Campobasso. Seconda sconfitta consecutiva per la Spal che cade in casa contro l'Entella. Tiritiello apre le danze con questa rete. In pieno recupero di primo tempo nella ripresa chiude il discorso Franzoni. Entella che torna alla vittoria dopo tre turni e sale a quota 14 punti in classifica. Finisce 1-1 tra Lucchese e Milan futuro. Succede tutto nel primo tempo. Saporiti sposta gli equilibri così a quarto d'ora di gioco. Il Milan pareggia al termine del primo tempo con Otsic che segna il suo secondo gol stagionale. Un punto che non sposta le cose in classifica. Il Pescara vince contro il Carpi 2-1 e conquista la vetta della classifica del girone B. Succede tutto nel secondo tempo. De Marco entra dalla panchina e segna l'1-0. Un 1-0 che dura pochi minuti perché Saporetti pareggia in questo modo in una maniera abbastanza rocambolesca. Il Pescara però impiega pochi secondi per tornare avanti allo stesso modo. Brosco è il più veloce a colpire. Successo del Pescara che si porta a quota 17 punti in classifica. L'unico match del girone B a essersi concluso 0-0 è Vispesero Perugia. Potissimo domani mattina alle 11.30 presso la Sala Raucci del Comune di Serne sarà presentata la ventesima edizione della Corri Serne organizzata dalla NAI del Presidente Caputo in programma domenica. La manifestazione che al suo interno avrà come sempre l'appuntamento con la gara competitiva di 9 chilometri, la non competitiva di 3, Corri la scuola riservato agli istituti scolastici, il miglio donne e la gara all'americana, promette grande spettacolo, sarà una festa di sport per tutta la città e non solo. E' ripartita con grandi numeri e con il solito entusiasmo la stagione del centro sportivo M2 di Campo di Pietra, sia per il settore nuoto che per il settore terra. Amelia Mascioli, dunque si è ripartiti alla grande direi. Beh sì, è un anno importante per noi, come sai io voglio che l'M2 esprima l'eccellenza, chiaramente il nostro cuore dell'attività è legato al mondo del nuoto e vorrei che il mondo del nuoto potesse vivere uno spessore di alto livello. Ed è quello che vorrei costruire o comunque continuare a costruire come abbiamo fatto finora, però dando comunque una spinta in più grazie a questa collaborazione importante che abbiamo riconfermato con Simone Palombi, dalla quale mi aspetto davvero tanto, sia in termini di ricaduta chiaramente sulla formazione dei tecnici che in termini di risultati sull'intera squadra. Sì, qui tra l'altro l'M2, insomma dei risultati ce ne sono già stati, evidentemente si cerca sempre il meglio, come diceva anche lo stesso Palombi. Sì, mi conosci, sai che sono una persona che punta alla perfezione e penso che la struttura ci consente di alzare l'asticella. Lo sport del resto è questo, è una sfida continua, per cui nel momento in cui riusciamo a raggiungere il risultato dobbiamo mantenere aspettative, perché no, anche migliorarla. E chiaramente alcuni strumenti li abbiamo, però per poter fare il salto di qualità abbiamo necessariamente bisogno di imparare dai migliori. Simone per me è uno dei tecnici migliori che esistono oggi nel nostro palinsesso nazionale, non solo perché è un tecnico di spessore e lo dimostrano, insomma, i fatti, ma perché è una persona che riesce ad arrivare all'altro. E questa non è una cosa, diciamo, data per scontato, perché poi nel nostro mondo è importante il rapporto con le persone, lavoriamo con i ragazzi e siamo soprattutto educatori. E quindi per me ha un valore aggiunto, ed è soprattutto questo valore aggiunto che vorrei venire trasferito proprio per formare una cultura sportiva che attraverso i ragazzi poi chiaramente possa consentirci di arrivare a risultati importanti. Senti, sacrificio, spirito di abbenegazione, te l'ho detto tante volte, sei una che veramente non ci torna la notte e non solo, perché manda anche i messaggi tipo l'avvocato Agnelli, no? L'avvocato Agnelli mandava... Non c'erano i telefonini, però, insomma, questo per dire che sei qui a 360 gradi. Sì, è la mia vita e abbiamo investito tanto in questo progetto e credo che meriti davvero attenzione massima. Io poi probabilmente, come tu mi dici sempre, sono esagerata, perché per me anche la notte è giorno, però quando credi in quello che fai non puoi risparmiarti e io voglio continuare a crederci. Calcio di Serie D. Nell'ottimo avvio di stagione del Termoli, la solidità difensiva ha rappresentato il punto di forza dei giallorossi che contro il Roma City hanno ottenuto il quarto risultato utile consecutivo. Mariani era una gara difficile contro il Roma City, alla fine l'avete spuntata perché ci avete creduto di più, siete stati più bravi ad avere la testa agile di cercare la via del gol. Abbiamo tenuto duro fino all'ultimo, poi i cambi sono stati fondamentali secondo me, quindi siamo un buon gruppo, non ci sono 11 titolari, chi entra fa bene. Hai fatto una buona prova, contento di essere stato schierato in là, nell'area difensiva, alla fine hai dato anche il tuo giusto contributo al confronto. Sì, sì, non solo il singolo, penso tutta la squadra abbiamo fatto bene, quindi siamo contenti del risultato. Quattro partite, quattro risultati utili, viaggiate in classifica con otto punti, insomma, magari nessuno se l'aspettava alla vigilia. Noi lavoriamo bene, non guardiamo la classifica, cerchiamo di fare il meglio partita dopo partita e vediamo a fine campionato come siamo messi. State già pensando al Castelfidardo? No, ci godiamo la vittoria, poi da domani iniziamo a pensare al Castelfidardo. L'isernia di mister Farrocco si prepara al ritorno a casa. La sfida con il Teramo di domenica prossima si disputerà infatti all'Ancellotta. I supporter bianco-celesti avranno così l'opportunità di seguire in numero massiccio i propri beniamini. I pentri hanno conquistato due successi nelle ultime due partite disputate e non intendono fermarsi. Mancherà all'appello il portiere Draghi, espulso domenica scorsa a fermo. Campionato d'eccellenza il Guglionesi grazie all'affermazione sul Boiano comanda la classifica a punteggio pieno insieme al Vasto Girardi. Stefano Sacchetti delle Guglionesi quarta vittoria su quattro partite 2-1 al Boiano, ma quanta sofferenza? Tanta sofferenza, però siamo riusciti a spuntarla tante difficoltà, per fortuna abbiamo trovato anche l'uomo in meno degli avversari del Boiano e quindi abbiamo saputo sfruttare l'occasione e abbiamo portato a casa i tre punti e ci servivano come il pane. È stato un Guglionesi che ha anche saputo soffrire quindi una squadra che dimostra di avere un gruppo molto forte anche mentalmente perché una partita come questa soltanto le squadre e Cini che riescono a portarla a casa. Soprattutto con l'aiuto dei più grandi parte tutto da loro anche con un primo tempo diciamo fatto discretamente poi siamo andati lì e siamo andati a riprenderla a giocarcela e a vincere. Forse è presto per guardare la classifica ma 12 punti in quattro partite sono un bottiglione davvero importante in un campionato che si dimostra anche molto equilibrato. Aspettiamo ancora gli scontri diretti abbiamo il Matese, il Vasto Girardi, il Venafro che sono le candidate a stare lì su però dobbiamo pensare domenica per domenica fine settimana per fine settimana e ci dobbiamo allenare costantemente per fare il meglio possibile stare là su perché possiamo starci. Scenderanno tra poco in campo a Esernia e San Pietro in Valle per proseguire la sfida della terza giornata interrotta al 44esimo del primo tempo sul passiale di 1-0 in favore del San Pietro. Ad Alife invece sempre tra un po' saranno di fronte Gioiese e Ripalimosani per la ripetizione della gara valida come prima giornata di campionato ricorderete per errore dell'arbitro il match. È stato appunto bisogna ripetere questo match e la partita si giocherà a porte chiuse. È stato un avvio di stagione complicato per il sesto campano. La squadra fino ad ora ha reso al di sotto di quelle che erano le aspettative della società. Nelle prime quattro giornate i ragazzi di Cerchino hanno collezionato due pareggi e due sconfitte con sei gol fatti e dodici subiti. Il presidente Silvestri si è detto pronto ad intervenire e a rivoluzionare i piani nel caso in cui non dovesse arrivare un'inversione di rotta nelle prossime settimane. Valle di Serie A3 si avvicina alle soldi in campionato per l'Energy Time che il 13 ottobre sarà impegnata sul campo del Lago Negro. I Rosso Plotorneranno in campo sabato a Sabaudia per affrontare nuovamente i laziali in amichevole. Mariano Maniscalco prosegue la preparazione della Spec Devils Campobasso tra allenamenti in sale e in palestra e tra amichevoli. Avete ospitato il Sabaudia. A favore che ricambierete? Sì, sono le ultime due amichevoli in programma in questo precampionato perché poi i giorni passano quindi noi praticamente tra due settimane inizia la danza e questo ritengo un test molto importante perché comunque siamo già alla sesta settimana di preparazione quindi insomma ci aspettiamo delle risposte adeguate. Ecco, lavori con i ragazzi ormai da circa un mese allora ti chiedo com'è la risposta? Com'è stata la risposta? Perché lo ricordiamo ci sono tante new entry per questo primo anno in Serie A3. La risposta è ottima sono ragazzi che hanno preso a cuore questa squadra ci tengono lo dimostrano giornalmente dobbiamo solo pensare a come farli giocare il meglio possibile ma la loro la loro predisposizione è quella giusta. Sarà un campionato importante questo per Campobasso per la palla a volo perché siete riusciti a riportare il volley di un certo livello in Molise. Ma ci sono c'è un elenco di motivi per cui questo campionato è importante noi abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui e ci dobbiamo rimanere. Per quanto riguarda il campionato come detto inizierà il 13 ottobre la prima sarà in trasferta poi inizierà insomma la stagione anche in casa sarà un bel campionato perché le squadre sono interessanti e ci si aspetta anche una bella risposta da parte del pubblico. Sì noi come dicevi tu prima stiamo affrontando questo campionato di A3 questo campionato di Lega colmo di squadre forti colmo di società che hanno costruito squadre complete squadre con giocatori di categoria e altro quindi insomma la curiosità dell'impatto che possiamo avere in questo livello è alta è altissima da parte di tutti e lo è anche da parte soprattutto del pubblico del pubblico che ci ha accompagnato fino adesso e che sicuramente si aspetta da noi la capacità di saper recitare un ruolo importante anche in questo campionato e grazie a loro sono sicuro che lo faremo. Dopo domani sera venerdì alle 18.30 presso l'aula magna del convinto Mario Pagano a Campobasso ci sarà la presentazione ufficiale della squadra e dello staff dell'Energy Time squadra e staff tecnico che saranno protagonisti della stagione ormai alle porte per il campionato di promozione lo spinete è partito con il freno a mano tirato la squadra giallo-verde pur offrendo una buona prova ha incassato il terzo KO consecutivo contro il Forulum misterdiamente per lo spinete sconfitta sul campo del Forulum possiamo dire penalizzati dagli avvii dei tempi dove avete subito i due gol che vi hanno condannato alla sconfitta sì hai detto bene tu se andiamo ad analizzare la partita da un punto di vista diciamo di gioco abbiamo fatto una buona partita chiaro quando giochiamo queste squadre qua i particolari fanno la differenza abbiamo preso il gol dopo 4 minuti del primo tempo e 5 minuti del secondo tempo su calcio d'angolo punizione poi è chiaro che è difficile ribartarla però io ecco mi tengo la prestazione la squadra a me sinceramente è piaciuta specialmente dopo il 2-0 dove magari anche a livello mentale poteva essere complicato invece avete trovato subito l'episodio per tornare in partita sì sì ma abbiamo avuto pure il primo tempo conto a loro avevamo avuto un'occasione per pareggiarla abbiamo pareggiata sul calcio di coro abbiamo avuto alla fine un'occasione nitida con Evangelista è chiaro che poi pure loro hanno avuto le loro occasioni però venire qui e fare contro la prima in grassifica questo tipo di partita questo tipo di prestazione ci fa ben sperare per il futuro chiaro dobbiamo sbagliare di meno perché in queste quattro partite abbiamo sbagliato tanto a livello individuale ed è un periodo che come sbagliamo ci puniscono però ecco diciamo io per il futuro sto non tranquillo però fa ben sperare questo tipo di prestazione qui la Juveness è tornata da Trivento con il secondo risultato utile di fila un punto utile a muovere la classifica che lascia anche un pizzico di rammarico mister Claudio Niro per la Juveness un punto a Trivento buona partita da parte vostra cosa è mancato per portare via i tre punti ma è mancata quella scaltrezza degli ultimi minuti purtroppo è una cosa che ci portiamo da qualche partita a questa parte non siamo un po' attenti su alcune dinamiche all'interno della partita verso gli ultimi minuti però devo fare un prazo a tutte e due le squadre perché abbiamo giocato veramente un gran calcio penso che chi vedrà la partita per il servizio verrà due squadre in forma ben messe in campo soprattutto degli ottimi giocatori sicuramente meglio voi nel primo tempo poi nella ripresa avete un po' sofferto sì abbiamo sofferto perché ho dovuto fare anche dei campi non 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 voluti perché per alcune defiance di qualche giocatore a livello fisico la partita è stata giustamente così su due volti il primo tempo l'abbiamo gestita bene finita sullo 0-0 poi abbiamo riaperto un po' la partita con l'1-0 da parte nostra ci poteva stare verso gli ultimi minuti il 2-1 da tutte e due le squadre per tutte e due le squadre però loro hanno sbagliato un gol già fatto e noi prima di quel gol già fatto da parte loro abbiamo sbagliato nel senso che proprio a porta vota abbiamo preso la traversa e poteva essere 2-1 per noi adesso Tessa e Guardia Alfiera gara sicuramente complicata ma le gare io credo che in promozione quest'anno le gare sono tutte complicate perché vedo che le squadre sono un po' tutte attrezzate normale che io come allenatore di questa squadra devo pensare più che altro a formare i giovani perché abbiamo queste priorità poi intorno a questi giovani ci mettiamo qualcuno di ex belle speranze che possa dare una mano sicuramente viene in mente Cialariello che tra l'altro è stato il gol dell'1-0 beh ci ha sorpreso un po' tutti quanti insomma questo gol però fa piacere perché fa capire anche ai ragazzi più giovani che avendo questa gente un po' più matura tipo Cialariello tipo Colalillo tipo Tedeschi insomma si può fare anche del buon calcio hanno dato insomma tantissimo questi un po' più in età proprio per far capire ai ragazzini che per giocare a calcio bisogna avere sempre un'idea positiva di quello che si fa e entrare in campo sempre decisivi basket femminile a partire dalla prossima stagione sportiva Blanca Chignonez sarà impegnata in America con la squadra di Ucon la stessa in cui militava la figlia di Kobe Bryant un passaggio frutto di un grande lavoro svolto con la Molisana e delle sue grandi qualità fisiche e tecniche calcio a 5 la netta affermazione nella seconda giornata di Coppa Italia sul Pozzilli tiene vive le speranze di qualificazione per la Chaminade Matteo Pietrangelo allora Chaminade ha recuperato in fretta la sconfitta contro il Ripa 13 a 1 avete governato in lungo e largo questa gara sì è stata una partita impostata un po' su una ripartenza non troppo negativa quindi è stata ci serviva come stimolo come ripartenza come appunto più che altro risultato perché abbiamo bisogno di un largo risultato ed è quello che siamo riusciti a portare a casa quindi siamo molto soddisfatti di ciò ecco abbiamo visto una bella squadra in campo sicuramente una squadra aggressiva cinica quindi possiamo dire che sono arrivate veramente delle buone indicazioni da questa partita sì assolutamente c'è stata un'ottima risposta dopo il purtroppo il negativo risultato in casa però c'è stata un'ottima risposta da parte di tutti che ci ha portato un risultato che ci serviva tanto la prossima partita contro il Montagano che comunque non sarà una squadra facile da affrontare avete già iniziato a studiare un po' quello che sarà il vostro prossimo avversario sì assolutamente infatti già siamo predisposti per la partita vogliamo dare il massimo perché ci serve tanto anche lì il risultato quindi punteremo al massimo possibile avete allestito un organico per vincere insomma la Coppa Italia non viene sotto il campionato anzi vanno di pari passo quindi riportare a casa quante più vittorie possibili questo resta il vostro obiettivo per questa stagione sì assolutamente con un organico molto lungo appunto c'è c'è un ottimo allungamento della squadra quindi possiamo gestirci al meglio e gestire le forze il meglio possibile secondo te quali sono i punti di forza della vostra squadra allora sicuramente il gruppo siamo un ottimo gruppo bello saldo e questo ci aiuta molto perché ripeto dopo l'inizio un po' negativo ci ha diciamo aiutato a ripartire al meglio stasera il chioschetto pizzeria in corso Puccia a Campobasso festeggia un anno per il raggiungimento di questo importante traguardo ha pensato ad una promozione imperdibile valida solo dalle 19 alle 22 infatti pizza margherita ad un solo euro ci sarà la possibilità di acquistare massimo 4 pezzi a persona senza scegliere altri gusti ci sarà in realtà anche il taglio della torta così come ci ha informato il nostro amico Andrea Pietrunti dal prossimo 6 ottobre il forno pizzeria marzitelli riprenderà anche l'apertura domenicale a partire dalle ore 18 una vasta scelta e grande qualità di prodotti per soddisfare la sua vastissima clientela bene è tutto buon pomeriggio come on come on Grazie a tutti.